Ah, bene allora, come promesso, eccolo qua, bellissimo, Yana Jisawa 901, appena terminato, eccolo qua, praticamente ricostruito completamente ogni parte. Adesso superficie completamente slaccata, ossidata artificialmente, sistemato nella maniera totale. Praticamente restauro 100%, ok? Vogliamo che questo sax rimanga per più tempo possibile in queste situazioni, dedicandogli leggermente un po' di tempo, si può fare. Avevamo parlato di spray al silicone, abbiamo promesso che lo avremmo rivisto a sax terminato, la nostra bomboletta, creiamo un film di silicone che proteggerà il sax dagli agenti atmosferici. Attenzione, molto spesso mi capita che molti musicisti vanno a suonare in situazioni dove ci sono vapori solfurei, tipo terme, qua da noi capita spesso che a Saturnia succede che molti musicisti vanno con strumenti argentati, o comunque alla fine della serata è diventato tutto nero. Ecco, anche in quel caso il nostro silicone potrebbe aiutarci a tenere lo strumento protetto dagli agenti atmosferici. Strumento terminato, il nostro silicone si va a spruzzare un po' su tutto il sax, ok? Anche se vanno i tamponi va benissimo, funge dal distaccante, non c'è problema, ok? Eccolo qua, abbiamo terminato. La nostra carta, prendiamo il nostro strumento, lo passiamo completamente, ok? Le nostre molle, ovviamente lo spray sarà andato in tutti gli anfratti, in tutti i pertugi più nascosti, lì lo lasciamo fare, che faccia il suo lavoro, rimarrà lì del tempo, non essendo un olio sintetico non lascerà residuo con il tempo, quindi non sporcherà nulla, perché fosse un olio ovviamente lascerebbe poi essiccandosi del residuo. In questo caso invece il silicone poi evapora, e quindi di conseguenza... Eccoci qua! Alla prossima!